Ben trovati a tutti a Storie, l'appuntamento quotidiano che ci permette di entrare in contatto con i personaggi del passato per comprendere di più il nostro presente. Il risorgimento italiano è un fenomeno che caratterizza profondamente la storia del nostro paese nella seconda metà dell'Ottocento. Protagonista indiscusso ne è Cavour, Cavour che viene nominato primo ministro del Piemonte nel 1848-49, negli anni successivi al 48 quando sale al trono appunto Vitale Emanuele II e viene nominato primo ministro proprio per questo motivo, perché lui potesse cercare di portare la questione dell'unità nazionale ad un livello più ampio, ad un livello europeo. L'Italia in quell'epoca era divisa sostanzialmente in 5 grandi zone, il Meridione che era caratterizzato dal Regno delle Due Sicilie, il Centro Italia che era caratterizzato dallo Stato della Chiesa e alcuni suoi domini, la terza zona sono i Ducati, i Regni che sono in qualche modo caratterizzanti della zona dell'Emilia e della Romagna che fanno un po' riferimento al Papa, un po' riferimento all'Austria, un po' riferimento alla Francia. Il Regno Lombardo-Veneto che è saldamente nelle mani sotto l'influenza austriaca e il Regno di Sardegna che comprende appunto Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna che è sotto la dinastia Sabauda e comprende anche alcune zone come la Savoia innanzitutto che sono oggi terra francese o Nizza ad esempio, voi pensate che Garibaldi è nata a Nizza, Nizza era in Italia. Ecco, in questo disegno Cavour prova a giocarsi, una partita interessantissima, manda un contingente in Crimea per avere parole, per avere voce in capitolo al Tavolo della Pace, la guerra di Crimea vede controposti Francia e Inghilterra contro la Russia e la guerra viene vinta, quindi al Tavolo della Pace siede anche Cavour con il Piemonte e pone la questione nazionale, i francesi dicono noi non possiamo attaccare l'Austria così per farvi un favore a voi, se vi attaccano noi siamo con voi. Attraverso tutta una serie di azioni diplomatiche Cavour in qualche modo fa scoprire un incidente che porta gli austriaci ad attaccare l'Italia, è la seconda guerra di indipendenza dopo la prima guerra di indipendenza che è il 1848-49, la seconda guerra di indipendenza inizia nel 1859 e ha come caratteristiche fondamentali quella proprio di essere una guerra che è stata cercata dall'Italia, quello che Cavour non poteva prevedere era la forza rivoluzionaria della seconda grande istanza che anima il risorgimento, cioè la forza garibaldina, Garibaldi non accetta la soluzione politica, dice l'Italia deve liberarsi da sola, non deve aspettare i francesi, parte con i mitici mille salpando dal porto di quarto, da quarto dei mille appunto, parte da lì con la spedizione dei mille per raggiungere la Sicilia e per liberarla. In realtà loro arrivano, la Sicilia la liberano abbastanza velocemente perché in realtà in Sicilia non è che ci fosse tutto questo entusiasmo, in Sicilia si capiva che qualunque cosa sarebbe andata meglio dell'attuale, i Borboni, la dinastia borbonica non era molto amata in quel tempo e quindi non trovarono grandi resistenze tutte queste spedizioni dei mille, furono ovviamente questa spedizione ingrossata da persone siciliane che si unirono alla spedizione, ma anche molti che non si unirono e semplicemente accettarono la liberazione, andarono verso, attraversarono lo stretto di Messina, liberarono la Calabria, liberarono il sud Italia, cominciarono a risalire l'Italia al punto tale che Cavour che è in guerra in questo momento con l'Austria al fianco della Francia, comincia a chiedersi ma non è che sto qua mentre io sto combattendo la guerra mi arriva alle spalle? e quindi ha un'idea eccezionale, quella dei plebisciti, cioè chiedere ai paesi e agli stati dell'Italia centrale se vogliono o no unirsi, annettersi al Piemonte, questi plebisciti alla fine si tengono praticamente in tutta Italia e danno come risultato quello di voler essere annessi al regno del Piemonte e quindi avviene una vera e propria annessione, un'annessione dell'Italia centrale ad esclusione del Lazio, è bene ricordarlo, un'annessione dell'Italia centrale che in qualche modo segna fortemente questo corso storico al punto tale che Cavour può essere forte di avere l'Italia settentrionale o quantomeno l'Italia nord settentrionale e l'Italia centrale nelle sue mani e Garibaldi ha l'Italia centro-medionale nelle sue mani, come la risolviamo questa cosa? La risolviamo in un modo molto semplice, Cavour dice è necessario che il re Vittorio Emanuele II si incontri con Garibaldi, l'incontro avviene a Teano 17 marzo 1861, Garibaldi che doveva essere l'uomo nero che in qualche modo ostacolava la monarchia Sabauda, riconosce invece in Vittorio Emanuele II il re d'Italia, proclamazione del regno d'Italia, proclamazione del regno d'Italia, nasce il regno d'Italia, nel 2011 abbiamo festeggiato i 150 anni da cosa? 17 marzo 2011 erano 150 anni dall'incontro di Teano la nascita del regno d'Italia, la proclamazione ufficiale del regno d'Italia, capitale del regno d'Italia manco a dirlo è Torino. Le grandi incompiute sono a questo punto 3, la prima incompiuta è la Lombardia che in qualche modo nella guerra che Napoleone III stava combattendo con Cavour viene vinta dagli italiani, quindi la Lombardia, tutta la parte milanese entra in qualche modo sotto la sfera di influenza italiana, si annetta l'Italia, anch'essa con la seconda guerra di dipendenza che finisce e lo Stato italiano quindi comprende la Lombardia, il nord Italia e tutto il centro Italia e il sud Italia, le isole comprese ad eccezione del Lazio, il Lazio è escluso, seconda grande ferita aperta, il Lazio e Roma c'è sempre il Papa e i francesi non vogliono assolutamente mollare la difesa del Papa, ma c'è un altro problema, un altro fronte che è quello del Veneto, che è quello legato per l'appunto a tutti quei territori sotto il controllo strettamente austriaco, il Veneto e il Trentino. Come vedrete il risorgimento finisce qui, 1861, ma il risorgimento continua perché il Lazio avrà bisogno di essere conquistato, il Veneto avrà bisogno di essere conquistato, il Trentino avrà bisogno di essere conquistato, per arrivare all'Italia che conosciamo ci vorrà ancora un po' di cammino, ma intanto il nostro paese è nato, proprio per questo motivo sarà interessante scoprire che cosa succederà adesso dal punto di vista culturale con le altre storie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.